Buongiorno, sono Teresa Maricaputo del TGLT4 Global Flash News. Passiamo ora alle notizie. Incidenti stradali. Un lavoratore su due muore sulle strade. Un nuovo servizio di tutela di CISL Venezia. La CISL di Venezia è a fianco di chi è vittima di infortuni stradali sul lavoro o errori medici di strutture mediche. In questi giorni apprevio il via un rinnovato sistema di tutela. Nato dalla collaborazione tra Family CISL e Carità Infortunistica per i cittadini, sono disponibili dei professionisti convenzionati da anni con la stessa Family CISL per proteggere i lavoratori e le loro famiglie dagli inconvenienti e dai danni che possono accadere. Ogni giorno il servizio si svolge attraverso gli operatori della CISL di Venezia con l'obiettivo di garantire una prestazione efficace ed economica, assicurando delle tariffe agevolate agli iscritti. Il tutto nasce dopo aver analizzato i dati dell'INAIL, secondo cui nel 2018 delle 704 morti sul lavoro accertate in Italia ben 412, il 58,5%, avevano coinvolto un mezzo di trasporto. E passati gli anni della pandemia dove il traffico è diminuito, nel 2022 le denunce di infortunio stradale con esito mortale sono state 496 salite dell'11,5%, dal 2021 a fronte di un calo del 15,2% della somma complessiva dei due cessi dichiarati. L'aumento delle morti nel 2022 è dovuto soprattutto a quanto si è in itinere, più il 17,1%, mentre è più contenuto il rialzo, quando si è nel luogo di lavoro, più 5,2%. Insomma, sulle strade italiane i lavoratori muoiono tanto troppo. Il servizio della CISL Venezia è garantito in tutte le sedi della provincia e prevede che le spese siano anticipate per intero, dunque l'iscritto e i suoi familiari non devono dare prima alcuna somma. Visite mediche, terapie fisiche, medico-legale. Questione molto importante, visto il periodo di difficoltà in cui versano tante famiglie. Non vorremmo che, a causa della poca disponibilità finanziaria, sì. Di parecchie persone, spiega Dario De Rossi, della segreteria di CISL Venezia, queste facessero fatica a intraprendere la strada del risarcimento. Per questo siamo qui per poterle aiutare. Per ogni informazione, telefonare ai numeri 337 15 15 391 oppure lo 041 29 059 14. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.